stia ogni tanto ecco pensate che era più semplice porta loca dietro al sasso praticamente e la pessoa e e e e e e anche quella lì è un'uscita stupida è un'uscita stupida quella lì perché devi portarti tanto in alto e poi chiuderla eh ma non riesci tanto ad alzarti eh perché sei in contropendenza eh è un'uscita stupida è un'uscita stupida e lì sbaglio io no dietro è un'uscita stupida 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 Spampi dopo andiamo alla vasca dei pesci eh mi sono rotto i maroni qua no dopo andiamo là in fondo alla vasca dei pesci sei venuto a guardare la prova l'hai visto che c'è un legno? eh 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 ma fa mingap eh figure prendi qua la moto ti fa così se no la devi aspettare che trapassa piedi dici apri 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 dai riprova ah se mi fichi quello è tecnica e con le contropendenze devi usare bene i pesci eh ha scivolato il dietro sei sul dietro sul paltino ha scivolato perchè? hai bisogno di apri 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 no? no 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 perchè anche tu quando sei entrando in giù fanno a casa la tua guarda la moto ti fa fatto fa no 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 Sì, sì. ma per me la scorpa è più alta di tanto così è certo che ha picchiato ma anch'io ho picchiato, so che non l'ho usato bravo eh eh caro mio meglio vedi perché io ho messo il cosino sul coso? perché sennò fanno così ciao Guido ciao ti raccomando eh ma per forza ma adesso andiamo alla vasca dei pesci eh facciamo il pezzettino andiamo su fino sotto il ponte dove ci sono tutti i sassè e un girettino che ci rilassiamo un momento mi raccomando a sinistra scelta cioè dai che sono stanchi li cuoci eh vabbè non 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 non